Siamo a Noventa di Piave, un comune di 7.000 abitanti, di cui troviamo tracce storiche fin dal primo secolo a.C. Era infatti inserito all'interno dell'agrocenturiato della città romana di Oderzo. Come tutti i paesi di questa zona del Piave, fu soggetto ad alluvioni, carestie ed invasioni, l'ultima cruenta degli Ungari. Un fatto veramente importante dal punto di vista storico per Noventa accade un po' prima dell'anno 1000, quando dopo lunghissime trattative diplomatiche tra il Doge e l'imperatore del Sacro Romano Impero Ottone III, si ebbe l'autorizzazione alla creazione di un porto e di un mercato. Questo ovviamente diede una grossissima spinta, sia dal punto di vista economico ed urbano, e nacque la città di Noventa, da cui il nome Nuova. L'ubicazione del porto non è casuale, infatti questo è l'ultimo tratto navigabile del Piave ed è perfettamente allineato con l'attuale via Calnova, che era un'antica via romana che portava a Doderzo. Singolare è questo tunnel, creato dalle Austriaci quando innalzarono l'argine e crearono una vera e propria porta tra il porto e la città.